Fate fiorire la bontà in carità. 19 ottobre 1976. Figli di Letti e Cari, sia pace a voi. Sono la madre vostra, desiderosa soltanto del vostro bene. Le lezioni materne che io vi impartisco hanno l'unico scopo di abbellire la vostra anima, così da renderla sempre più gradita a Dio che l'ha creata a sua immagine e somiglianza. Voglio anche, ogni volta che vi incontrate con me, arricchirvi di meriti, donandovi tutte quelle grazie che sono in deposito presso il mio cuore, e che valgono per farvi trafficare quei talenti che da Dio avete ricevuto. Oggi però, a compensare la mia ultima venuta con le braccia cariche di croci, di cui alcuni si sono spaventati, mi presento a voi con le braccia colme di rose fresche e profumate. Forse che dovremo andare a nozze? Sì, ma faremo certe nozze che nulla hanno da invidiare alle nozze umane. Vi dono le rose, a ciascuno secondo richiesta, a scelta. Purtroppo non posso togliere le spine, perché sciuperei le rose che hanno un pregio bellissimo, quello di rappresentare le opere buone, frutto di bontà, di cui si deve seminare la vita. Figli, è tanto bello tradurre la bontà in carità e farla fiorire attorno a voi. Credetemi, gli uomini di questo mondo non credono più alle parole, vogliono i fatti. Il Vangelo si fa conoscere ed amare operando come operava Gesù, che passò facendo del bene. Io dunque vi dono rose, cioè vi invito a fare del bene tutti i giorni della vostra vita, anche se raccoglierete spine, poiché esse sono riservate a voi. Non tutto ciò che voi credete bene è bene, però l'Eterno Giudice guarderà le vostre intenzioni. Voi regolatevi su quelle opere di misericordia che la Chiesa vi propone, e che sono estratte dalla parola viva di Gesù. Non fate distinzione. Beneficate tutti, e sappiate che ogni volta che con sacrificio e rinunciando forse alla vostra volontà, porgete la rosa della vostra bontà a un vostro fratello. Il suo profumo sale direttamente al cuore di Dio, e a me recate grande gioia e conforto. Vi sono rose mistiche che circondano i miei altari e sono le vostre preghiere, ma le rose che voi potete diffondere nel mondo con la carità non mi sono meno gradite. Vi sono molti che aspettano il vostro aiuto, sono giovani e anziani, sono sacerdoti e religiosi, sono genitori e figli. Vedete quante mani si levano verso di voi? Tu che frequenti la Chiesa, devi agire davvero credente. Tu che sei mamma, devi essere la rosa che profuma la tua casa, donando a tutti quel calore che non è altro che amore. Anche coloro che frequentano la tua casa devono godere della tua benevolenza. La tua fede deve far sprigionare i più santi pensieri e le parole più buone. Sei sacerdote? Qui la rosa diventa un roseto. Le tue opere, figlio prediletto, devono avere il buon odore di Cristo. Sei di Gesù, sei Gesù, e tutti se ne devono accorgere. L'abito è buona cosa, ma non basta. Se sei un vero ministro di Dio, se ne devono accorgere tutti, i cattivi per combatterti, i buoni per amarti, per seguirti, per ascoltarti. In una parola, devono vedere in te Gesù, sacerdote eterno. Quando i giovani sono puri, emanano un profumo di cielo. Il profumo della rosa si confonde con quello del giglio, ed hanno un'attrattiva particolare che dà serenità a tutti coloro che li avvicinano. Ve ne sono, ma sono molti coloro che non emanano che odori di fango. Se voi voleste darmi una mano, quale gioia per il mio cuore quando mi portate qualcuno di essi, che voi dite drogati, rovinati, malati spiritualmente. È come sentirmi tra le braccia il mio Gesù morto. Ricordate? Quanto dolore, quanto amore. Io ripulì dalla terra, dagli sputi e dal sangue quel corpo benedetto e lo avvolgemmo in un candidolino. Così, quando mi si portano questi giovani, li accolgo, li ripulisco, li avvolgo nel candidolino della grazia. Ricevono la vita, poi tutto cambia in loro. La trasformazione può essere frutto delle rose che voi mi offrite e che donate loro. Figli, vi sono ad ogni istante molte anime che si presentano al tribunale di Dio e sono impreparate. L'esercizio della carità vi deve preparare veramente a quegli sponsali con Dio che dureranno in eterno. Coraggio, fiducia e avanti. Io spargo rose in continuazione. Ora vi benedico tutti. Arrivederci, figli. Vi amo più di me stessa.